La storia in generale ce la raccontano, ce la tramandano e dipende sempre dall'onestà intellettuale con cui ti viene raccontata che la storia ha diritto di esistere, sino è una storia, ed ora di storia li possiamo raccontare tanto. Questa è accaduta l'11 settembre, era l'11 settembre anche quello, 1972. Qualcuno prese un potere in Cile e pochi mesi fa questo e questo qualcuno che ha fatto sparire 30.000 persone è stato definito un rifondatore economico di quel paese. E' bene così. 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 In questi giorni, a certo occhio giù da noi, dolce Marta, Marta mia, ricordo dove il fiume e il tuo cavallo di Normandie L'amore, liberi, liberi L'amore, liberi, liberi, liberi Ascolta Marta, in questo strano, a un giù, i tuoi cavallo di Normandie L'amore, liberi, liberi L'amore, liberi L'amore, liberi L'amore, liberi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.